Diciamo che Promotune ormai è diventato un evento annuale, questo è il quarto anno che lo riproponiamo, anche se non è l'unico evento, probabilmente è quello clou della stagione, perché è quello su cui Promocamera ha investito tantissimo, le aziende stanno investendo tantissimo e quindi mi auguro che anche questo sia un evento che aiuti le aziende ad essere di nuovo presenti nel mercato.